tanti giocatori mi dicono cosa devo fare con questo braccio destra per un giocatore destro il contrario per un mancino non devo usarlo devo usare più il sinistro il destro devo mollare completamente allora più che molli il braccio destra peggio va allora importante in questo video di oggi vi faccio capire esattamente cosa deve fare con tuo braccio destra per tirare la palla costantemente più lungo e più dritto guardate fino in fondo allora cosa devo fare con questo braccio destra per essere costante allora la prima parte parte con il solo inizio cosa succede uno magari c'è il braccio fuori posizione inizio nel backswing il gomito si stacca dal corpo il gomito va addirittura indietro del mio corpo c'è poca ampiezza quando scendo deve trovare spazio comincio a scaricare c'è questo famoso chicken wing sono arrivato con poca velocità ma soprattutto la palla il bastone arriva anche storto questo punto qui mi trovo così un casino allora partiamo della prima cosa che serve per posizionare il braccio destra correttamente che ti aiuta fa tutto il resto del basso in fatto bene allora adesso poggio il bastone così mi mette la braccia qui davanti mio gomito non deve essere staccato verso esterno guarda cosa faccio giro il mio braccio verso l'interno vedi questo sì il palmo di mia mano destra punto verso di voi ma adesso cosa faccio semplicemente giro la mano ma tengo quest'angolo è ben diverso di questo dentro i gomiti rimano rimangono stretti tra le due giro il mano questo già è l'inizio di tenere questo braccio posizionato bene durante il back swing questo mi aiuta fa cosa guarda mi metto qui sotto mano sopra stretti tra le due quando vado indietro riesco a mantenere questa ampiezza questo diventa importante sulla seconda parte del basso neanche c'è un piccolo del molto semplice io preso un libro mi metto sulla mano destra mi faccio mia posizione come detto prima tenendo il libro così e cosa devo fare devo fare il back swing rotando sentendo questo gomito dentro e guarda tengo il libro a 45 gradi cerca non mi scivolo del mano guarda io faccio il gomito davanti mio corpo se metto la mano sinistra sopra guarda questa posizione come sono messo molto molto bene loro mio obiettivo con questo libro diciamo così giro e le tengo metto la mano sopra guarda il polso due mani sento parte bene ovviamente qui e qui lasciano mano aperto solo per sentire questa posizione l'apice ecco questo un'ottima sensazione la faccio col bastone metto qui sotto mano sopra posizione immagino che sto muovendo tutti insieme c'ho il libro ecco mano sinistra guarda che ampiezza che spazio che c'è e quando c'ho questo spazio quando c'ho questa ampiezza da qui riesco a riportare guarda il gomito davanti al corpo il famoso posizione che vediamo tutti i professionisti perché questo è importante che le mani arrivano davanti al mio corpo sopra la palla e adesso sono posizionato che posso scaricare tutta l'energia allora passiamo adesso il prossimo pezzo il rilascio del bastone allora butto giù il bastone un attimino abbiamo messo questa mano così qui sotto così tengo il libro sulla mano adesso da qui cosa è importante c'è il poggio del peso ma guarda cosa faccio io immagino che c'è una macchina quei suv americano grossissimo con un sportello aperto che è molto pesante e io voglio chiudere quel sportello dall'impatto io poggio la mano sopra voglio chiudere quel sportello usando non il braccio che è troppo pesante non ce la faccio usa tutti insieme guarda ho portato il braccio qui sono sul suv c'è il poggio del peso adesso chiudo perché è pesante allora posizione su appoggio porto sul sportello gomito qui chiudo chiudo sportello perché pesa e questa è la sensazione di essere con esso ma insieme allora cosa succede io prendo il bastone mi metto in posizione gomito mano cerco di mantenere questa sensazione del libro da qui c'è il poggio porto il bastone qui adesso cosa devo fare chiudere questo porta del suv chiudendo raddrizza la gamba sinistra che spinge un po contro il mio bacino comincia a ruotare chiudo questo questo sportello la mano sinistra sta facendo sua rotazione ho il palmo della mano destra facendo sua rotazione verso l'obiettivo e vado c'ho spazio allora qui qui appoggio contro il suv chiudo la porta raddrizza la gamba rotazione perfetto facciamo un paio di prove ho creato le sensazioni giusti lo so come devo usare questo braccio a destra finalmente in modo corretto che è una cosa molto molto importante e questo mi dà la sensazione che possa da anche più energia invece di avere questo mano tutto leggero che non funziona facciamo un tiro poi vediamo allora mettiamo in posizione l'abbraccio giusto ok cerca di sentire il libro in backswing e il suv movimento del contro il portone del suv davanti wow che bomba ho sentito qui veramente bene questo gomito ho sentito che è tenuto l'ampiezza qui come se ci aveva libero sceso giù e da questo punto chiuso il portone del suv e via ho rilasciato molto potente molto facile finalmente posso sentire che uso il destro e non solo il sinistro e vedrai che differenza che fa in vostro golf ragazzi praticare questo piccole cose e sarà un grande successo per tutti voi bio best